FATEMI MANGIARE CHE CAZZO sa che sono sua hai trovato una bomba su cambiare entrata ma dove cazzo sono tutte le bomba perché non li spottiamo mai grazie una granata ne ho grazie a tutti un operatore alleato rimasto difensori annullati insieme di attacco riuscita un'errore un'errore Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh 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 Che cazzo Abbassa difficoltà ditte Abbassarla Caricatore Grazie Oh 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 nuovo caricatore una zona controllata dal nemico lascia l'assunto che è stato ma che cazzo fa Quaternights scusate? 10 secondi 10 secondi e via Poglione ma dai ma che cazzo va Arricano? le ho mostrato degli stupidi ricarico copritemi ma cazzo ha fatto non uccidermi non per cazzo è rimasto in vita è in una zona controllata dal nemico lasciala subito 10 secondi e via 10 secondi e via ma non per cazzo non per cazzo non per cazzo è in una zona controllata dal nemico